Buongiorno e benvenuti a questa edizione Flash del TG Inchiostro. In apertura i risultati delle elezioni in Sicilia. Secondo le proiezioni è testa a testa tra il candidato del centrodestra Nello Musumeci e il pentastellato Giancarlo Cancelleri. Cancelleri al 38%, Musumeci al 36%, terzo Micari sostenuto dal PD con il 17,5% dei voti, quarto Fava con il 7,5%. Sono questi i dati ancora provvisori che emergono dopo la quarta proiezione a scrutinio in corso. Si conferma la tendenza dell'astensionismo. Ieri ha votato solo il 46,76% degli eventi diritto. Elezioni anche a Ostia dove sarà ballottaggio tra Monica Picca, sostenuta dal centrodestra, e la grillina Giuliana Di Pillo, storico 9% raggiunto da Casa Pound. E dopo le elezioni in Sicilia esulta il centrodestra. Non si sbilanciano i 5 Stelle, c'è delusione invece nel PD. C'è soddisfazione già a tardasera nel centrodestra. Queste elezioni le ho vinte io, dice Silvio Berlusconi. Noi i primi a credere in Musumeci. Il commento a caldo della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. E Salvini chiede elezioni subito. Il Movimento 5 Stelle si difende. Siamo i vincitori morali, dice Di Maio. Una sconfitta annunciata invece ammette il Dem, Davide Faraone. Fuori gara per colpa dei Bersaniani, l'accusa del capogruppo alla Camera del PD, Ettore Rosato. Ci sono anche una donna all'ottavo mese di gravidanza e la figlia quattordicenne del pastore, tra le vittime della strage compiuta ieri da un ex militare in Texas. Per il presidente Donald Trump, che si trova in viaggio in Giappone, un atto di uno squilibrato. E' entrato nella chiesa battista di Sutherland Springs durante la funzione domenicale e ha sparato, uccidendo 26 persone tra i 5 e i 72 anni. L'attentatore, un 26enne, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto a sua volta da un colpo di pistola. E' morto poco dopo nella sua auto, dove la polizia ha trovato altre armi. Un individuo con evidenti problemi mentali. Non c'entrano le armi, commenta il presidente Donald Trump, mentre in Giappone ha incontrato l'imperatore Akito. Oggi il tavolo di confronto tra il governo e i sindacati sull'inalzamento dell'età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019. Tra gli obiettivi dei sindacati, bloccare lo scatto per i lavori gravosi e usuranti e allargare la platea, includendo anche le donne con figli. Frena il governo in attesa di capire quanto costerà quest'operazione. Resta l'incognita manovra finanziaria a cui si potranno apportare modifiche solo fino al prossimo 10 novembre. In chiusura lo sport con i risultati della dodicesima giornata di Serie A. Il Napoli capolista frena e non va oltre lo 0-0 in casa del Chievo. La Juventus vince con il Benevento e va a meno uno dagli azzurri. Vincono Roma e Milan fuori casa contro Fiorentina e Sassuolo. 2-1 Cagliari-Verona. Finisce in parità con una rete a testa Inter-Torino, posticipata per Pioggia-Lazio-Udinese. Questa era la nostra ultima notizia. Per questa edizione è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie.